PAULA Grazie. 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 però i risultati appagano e sono un dono per tutti la seconda cosa è che dopo aver preso l'esempio dei cori anche noi dobbiamo fare ancora e prima di andarcene cattiamo tutti insieme dall'est a fedele chi è al meglio di ci guida al solito è che fossero proprio i tre maestri a venire qui così almeno li vediamo bene infatti Vincenzo Maurizio Grazie a voi la moglie a Bacchetta Grazie a voi 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 Grazie a voi